Noi stiamo in un cambiamento epocale, un cambiamento, siamo a metà tra due mondi che non regolano più quello vecchio, ecco perché siamo costretti a immaginarci un mondo diverso, siamo costretti, costretti, perché questo non funziona più, il PIL è la crescita, abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno che con le parole di pensieri nuovi e abbiamo bisogno di un sogno, un sogno per capire cosa dobbiamo fare, per capire come sarà la società fra 10, 15, 20 anni, come sarà l'energia, come saranno i materiali, come sarà l'economia e come sarà la politica fra 20 anni, il movimento è tutto questo, è una grande occasione, se la lasciate perdere andate a fa' il culo! Ciao! Dio mio! Anche Di Maio quando non c'ha la cravatta è un casino! Ciao ragazzi, arrivederci, ci vediamo in giro, ciao!